faremo il giro della capitale ma si certo che andiamo quindi cosa fate? correte? vabbè corriamo anche noi regà andiamo 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 guarda come siamo belli tra l'altro sono dei maratoneti sti tizi, cioè corron velocissimi che bella cosa perché ci sono dei goblin lì, non è che sono sì, questo gioco è pieno di cose bellissime tra le quali la corsa campestre, cioè veramente grazie